musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi settimana numero 8 sfide di deadpool ci chiedono trova il galleggiante da piscina di deadpool dove si trova questo galle e anche giante beh molto facile ragazzi basta andare nella sezione degli agenti esattamente da sky e come vedete ragazzi in basso a destra eccolo qua il galleggiante da piscina è stato preso torniamo indietro e diamo un'occhiata all'aggiornamento della coppia di sfide vediamo che cosa ci chiede danza al party sullo yacht di deadpool quindi semplicissimo entrate andate allo yacht ballate e otterrete lo stile io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali e mi trovate adesso in live su twitch ciao 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 ciao